Voglio ribadire con forza e con fermezza la solidarietà mia di tutta la Giunta e di tutta la città ai lavoratori, agli operai, agli impiegati della Lenia. Ancora una volta un governo fortemente condizionato dalla Lega, con pretesti assurdi, ingiustificati e falsi, vuole spostare un'azienda sana verso il nord. Fatto gravissimo che tende a svuotare la classe operaia e le realtà industriali importanti del sud, della Campania, il Mezzogiorno, Casoria, Pomigliano. Ci sono eccellenze, qualità importanti, persone che lavorano con onestà e con dedizione. Salviamo l'industria del sud per il rilancio dell'intero Mezzogiorno. al fianco da Palazzo San Giacomo, dal Comune di Napoli, ai lavoratori della Lenia, di Casoria, di Pomigliano, del sud, del Mezzogiorno, della Campania.